Caterina Balivo molto innamorata del marito racconta dei particolari della sua Natale in famiglia Il Natale in casa Balivo Brera.Punto per la bella conduttrice televisiva, anni 38, le feste sono una cosa seria Mentre nello studio della trasmissione Vieni da me, l'albero è stato mostrato al pubblico il 10 dicembre, a casa sua si sono portati avanti addobbandolo addirittura due settimane prima L'abbiamo fatto quando Guido Alberto ha avuto la varicella. Ne abbiamo così approfittato per trascorrere del tempo in nsdm e aperte virgolette Guido Alberto è il figlio di 5 anni avuto dal marito Guido Maria Brera. È una bella a grande famiglia quella di Caterina Oltre infatti al marito, ed al figlio maschio. C'è anche la figlia Cora, nata nel 2017, e Roberto e Costanza, nati da una relazione precedente del marito Caterina Balivo e la famiglia in vacanza.Quindi è essenziale l'organizzazione in tutte le cose Dico solo, continua, che i regali li ho comprati tutti a settembre, li devo solo impacchettare Ho una sola regola. Mai regalare qualcosa di riciclato. In casa Balivo i regali si aprono il 25 mattina, però un pensiero per Babbo Natale viene lasciato già la sera prima grazie a Guido Alberto. Latte e biscotti La letterina l'abbiamo già scritta, tre volte, è un bambino molto preciso. Cora, al momento, è interessata solo a staccare le palline dell'albero Chiuse virgolette racconta divertita Caterina.Per lei il Natale è uno dei momenti più importanti dell'anno, da passare assolutamente con chi si ama di più E deve esserci anche l'atmosfera giusta. Le feste le trascorriamo tutti in montagna. Per mio marito non è Natale se non c'è la neve Chiusi virgolette.I regali quasi mai azzeccati del marito.Il menù in genere comprende la pasta al forno, ma per quest'anno c'è un cambiamento, dovuto alla presenza dei genitori di Caterina, e della sorella Serap Quest'anno ci sarà mia madre ai fornelli. Per il 24, preparerà un brodo, che deve cuocere per oltre otto ore E poi i tortellini. Il 25 si pranza solitamente fuori, in bite appunto e per quanto riguarda i regali importanti, quelli da parte del marito. Non si può dire che non ci metta dell'impegno. E del sano romanticismo, ma a quanto pare non è che azzecchi tutte le volte Ad esempio, come racconta Caterina. Un altro anno mi ha regalato una collana di cristalli di rocca in cui ogni pietra corrisponde a un membro della famiglia La scelta è insieme ai suoi figli, vi immaginate il risultato dei gusti di tre maschi messi i nsi e m e Alla fine però quello che conta per la Balivo, è stare insieme con i propri cari, giocando magari a tombola, o al mercante in fiera News by The Social Post. www.The Social Post.it